Mi sono scoperto che non c'è nulla nel pappiamento, ma non c'è nessuno nel pappiamento. Mi sono scoperto che per questo pubblico c'è un mese, mi sono scoperto di più di 30 bambini in un anno nel pappiamento. Non solo nel mese, nel mese sono 17, ma non c'è nessuno pubblico di 17 bambini, ma c'è un altro autore di Isla Naro, sia meno autore, io non penso che nessuno abbia più bucchi, ma c'è nessuno pubblico di più di qui, ma di più di inscrizione, e allora 옷 mandano inscrivere più bucchi. Bocchi, non sono paura di bocchi, naturalmente Nostra stessa operativa molto Chiquito, che sei non, però Conta che il desarrollo di bocchi non si spende grandi Mese, ti senti che c'è qualcosa di inizia qui? Sicuramente sì, non c'è Mita mira che c'è Dia per dia ma interesse per Bocchi non Autobiografia, quindi persone Non che scrive, offre una vita Ma inizia che è importante Nella mia opinione Per una persona che sta conoscendo in comunità Non c'è, non c'è Con la vita che sta conoscendo Non c'è, non c'è C'è quello che mi stanno facendo una peticione Però anche per Questa è Interesse per scrivere bocchi Per molti, è un po' più facile Per adulto basta Ma complicar Escoge di parola Ma Bocchi buscati parola Ma un livello più alto Per avere la letteratura Ma un livello Però è quello che mi stanno facendo Basta Interesse Non c'è E anche un messaggio Per non sentire Per stimolare Lezamento In una buona errore In una buona In una buona Si Non tenere miedo Mi sembra Per una persona Tiene Non c'è Ma un scritto Che vi capa Non c'è Che ho Pallan Ho Pallan però non ha tommo stop come se scrive come se scrive è una frase e anche automaticamente quindi non tenere miedo tutte le cose più complicate di disegno grafico conti in che buco di un altro imprimi a sacco è pubblicato, è editorial non è così, è troppo però come se scrive è molto importante di una storia non può essere è stata scopriata non ho scopriato non ho scopriato non ho scopriato ma per esempio il book di Micharda Martina The Backbone è stato molto molto contento con la esperienza che l'anno passato è stata storia di quanto cose la esperienza che passate con il suo alto è stato molto molto e che la notizia è stato molto affmatico con quel pen e che la notizia è stata scritta e non ti ho capito di andare in un tazio tra i sacchi di un tazio ma similiano Grazie.